Quanti anni avevi quando l'hai scoperto? Parte 2 Saluto le ultime 5 persone che mi hanno seguito sui, stavami a seguire se vuoi essere salutato in un prossimo video Timmy Turner è in realtà 60 anni, infatti in un episodio intitolato Il desiderio segreto di Timmy aveva chiesto di non crescere mai Patrick ha una patente di pesca e dato che a Bikini Bottom ci sono soltanto pesci è autorizzato a cacciare i suoi simili Parola notte è composta da no più 8 in tutte le lingue Anche loro due hanno un cognome, quindi lui è Mario Mario e lui è Luigi Mario Parte 3